Preparazione del lievito in coltura liquida, molto comunemente chiamato. Licoli. Ingredienti per la realizzazione sono. Per la prima fase occorre. Farina di tipo 1 o tipo 2. Acqua oligominerale. Pesa il vassetto vuoto e segnati il peso della tara. Servirà per sapere in seguito quanto licoli c'è nel vassetto. Inserisci 25 grammi di farina più 25 grammi acqua. Copri con una garza, e poni il vassetto vicino ad un cesto di frutta matura. Aiuterà a velocizzare l'avvio della fermentazione. Gli strumenti per la realizzazione sono. Vasetto in vetro. Garza. Molla. Cucchiaio. Bilancia. Pennarello. In questa prima fase amalgama di tanto in tanto, in modo da incorporare l'ossigeno. Lascia fermentare per 24 o 48 ore, a seconda della temperatura ambiente. Per il secondo rinfresco aggiungi. 10 grammi di farina più 10 grammi d'acqua. Aspettate che il licoli termini il rinfresco. Il tempo che ci vorrà dipende da molti fattori ambientali. Nel caso inizi a crescere, sarà più semplice, perché vi basterà monitorare la crescita. Quando smette di lievitare e presenta sulla superficie segni di cerdimento. Precollasso, è il momento di rinfrescare. Se invece ancora non cresce, devi basarti sulle bollicine, quando iniziano. Ad essere visibili anche di lato ed in superficie diventando sempre più. Numerose, puoi rinfrescare. Per il terzo rinfresco aggiungi. 10 grammi di farina più 10 grammi d'acqua. Prosegui con i rinfreschi, non cambiare il vassetto. Cambiare vaso provoca la destabilizzazione del prodotto, sarà necessario togliere una cucchiaiata di licoli prima di rinfrescare, perché il vassetto di partenza non è molto capiente ed il licoli deve avere sempre spazio per crescere. La fase finale consiste nel rinfresco totale. Il tutto avviene quando il tuo licoli inizierà a raddoppiare o triplicare in tempi brevi. Dalle 2 alle 4 ore a seconda della temperatura. È ora di procedere con un rinfresco totale, con pari quantità licoli, acqua e farina. Dandogli più cibo, rallenteremo un po' il suo metabolismo e lo aiuteremo. A stabilizzarlo. Pesa quindi il tuo vassetto, sottrai il peso della tara. Esempio, il vasetto pesa 400 grammi, sottraggo il peso della tara e il peso del vaso. Vuoto che mi ero segnata all'inizio, 360 grammi. 400 meno 360 uguale 40. So di avere 40 grammi di licoli. Decido di togliere 20 grammi, e ai 20 grammi di licoli che rimangono, aggiungo 20 di. Acqua e farina, facendo un rinfresco totale. 20 più 20 più 20 uguale 60. Naturalmente puoi decidere di rinfrescarne solo 10 grammi, con pari quantità. Acqua e farina, questa è una tua scelta. Prosegui con i rinfreschi totali. E quando il tuo licoli terminerà il rinfresco entro 2 o 4 ore a seconda della. Temperatura ambiente, potrai metterlo in frigo. Dopodiché, cerca di rinfrescarlo tutti i giorni per una settimana o ogni 10 giorni. In seguito potrai ridurre i rinfreschi a 2 o 3 volte alla settimana. Dopo un mese potrai considerare il tuo licoli stabile e rinfrescarlo secondo la tua necessità. Nel caso in cui in casa tu abbia una temperatura tra i 19 e i 21 gradi di temperatura ambientale, in inverno invece devi avere un po' di pazienza e quindi tieni presente che ci vorrà più tempo. Cerca di tenerlo nei luoghi più caldi ancora meglio se ti procuri un termometro per monitorare la temperatura. Solo nel caso in cui fatichi molto a nascere, oppure se dovesse avere un piccolo calo prestazionale potrai ricorrere al forno, preriscaldando per 40 secondi a 40 gradi, ed aiutandoti con una tazza d'acqua bollente. Fai attenzione a non superare i 30 gradi, la temperatura ideale è di circa 26 gradi. Se il tutorial è stato di tuo gradimento iscriviti al canale e se ti va lascia un mi piace. Grazie.